Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Il debutto di Vladimir Luxury alla conduzione dell'Isola dei Famosi si è dimostrato abbastanza soddisfacente, nonostante un lieve calo di ascolti rispetto alla precedente edizione condotta da Hilary Blasi. La prima fase di nomination nella nuova edizione del reality ha portato alcune sorprese, con Arthur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron finiti al televoto. Joe Bastianich, mandato in nomination da Greta, ha considerato la sua selezione strategica e ovvia, convinto di non essere a rischio di eliminazione. I sondaggi condotti dal forum dell'Isola dei Famosi suggeriscono che proprio Joe Bastianich potrebbe essere in pericolo, trovandosi in fondo alla classifica. L'attesa per la dichiarazione ufficiale di Vladimir Luxurya è alta, e alcune anticipazioni potrebbero emergere già prima della prossima puntata. Quest'ultima, tuttavia, non sarà trasmessa in diretta poiché l'Isola dei Famosi condivide il set con la versione spagnola, Supervivientes. Di conseguenza, una delle due puntate settimanali del reality viene registrata indifferita. E voi cosa ne pensate di questa scelta? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.